YAMMA E BEL Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene Mi ritrovo ancora qui in Calabria Sono qui da 15 giorni Ma oggi me ne devo andare Me ne devo andare perché c'è un compleanno Molto teso Che richiede la mia presenza E quindi, e quindi Salutiamo la mamma che mi sta facendo Un pranzetto Mamma ci rivediamo domani No, ah sì Tra due giorni perché c'è un matrimonio Sicuramente uscirà anche lì un video YouTube Salutiamo anche Jolie Che c'è tre cuccioletti Sta diventando mamma Quindi valigia fatta, panini fatti Mi devo fare sette ore di macchina Aurora sto arrivando Aspetta c'è mia madre che vuole dirti una cosa Tanti auguri Auri Che falsa Allora ragazzi Io dovrei essere lì al compleanno Tra otto ore Mi sono appena partito Con la macchina E mi dice il navigatore Che ce ne vogliono sette Quindi non vorrei far ritardo Comunque è ora vi aggiorno Ci inizia il viaggio Pausa Pranzo Sono le 3.40 Ragazzi Mi è arrivata una notizia Assurda Io però vi ho mai chiamato Rita De Crescenzo Mi fa Guarda che forse riesco a venire alla festa di Aurora Perfetto Abbiamo due sorprese quindi Ora vediamo qual è Gli piace Un compleanno perfetto Gli ho fatto pure due regali Sono o non sono Un amico perfetto Comunque due ore E mezza Siamo arrivati Però prima devo andare a lavare Tiffany Che è veramente sporca E poi si va Dovete vedere il vestito che ho Poi ve lo faccio vedere Ok ragazzi Siamo arrivati Tappa Qui in Startup Lab Che devo prendere delle cose Ora anche pausa Bagno Che sto morendo E poi Si va a lavare prima la macchina Ci si prepara E si fa il compleanno Ma qui c'è qualcuno C'è Rachel Rachel Ma che ci fai qua La casa era vuota Trovo a te No è il contrario Vado a cagare Siamo Lavaggio macchinina E ragazzi Allora gli faccio un lavaggio un po' così Per non fare brutta figura Il compleanno Però dovrei portarla al lavaggio Uno serio Comunque Non per dire Ma l'outfit È in tinta ovviamente Con Tiffany Aspetta come faccio A far vedere Un attimo Faccio così Non per dire ma Ragazzi Siamo in Pantane Con Tiffany L'outfit Ci sta Allora so Appena arrivato C'è musica Non so se la sentite La vista qua È bellissima Ragazzi Il posto è stupendo Allora io sento la musica Che viene da qua Quindi Non so Salgo Eccomi qua Sono arrivato Siamo arrivati Nella mia stanza 4 2 1 Ci dovrebbe essere Già qualcuno Qua ad aspettarmi Sono proprio io Ma che fai Ma come è possibile Ma ci siamo vestiti uguali Senza metterci da come Non ci credo Ma io non ci credo Vi giuro che non ci siamo organizzati Quante probabilità c'erano Ci mi confetti facciamo Sei pronto per questa festa? Sì Io ormai te la dico Allora la prima Ho convinto Rita di crescenza A venire La seconda Il mio regalo sarà A un giorno di shopping Insieme a me In cui pago Tutto Io Ah Ci hai trattato bene Eh certo E per l'aurora Capito Facciamo cose belle Per la quinze Serve qualcosa di più No Ecco E ci hanno rubato Intruse subito Subito Ma dico io Lauretta Jackie Venite qua Vi fate la foto Al nostro specchio Avete la camera? No Avete una camera? No Siamo a casa mia Noi Ah Tu Sei metto in room Dammi un bacio Rocco Voi Mattia Mattia Uno scherzo Mattia Uno scherzo Pronti per questa festa? Uh No no Non saltiamo Saltiamo E uno E tu Fermi Fermi Mamma mia Ti do gli spettacoli col fuoco Oddio Il solito femminaro Ah Mi dispiace E che dobbiamo fare? La mano è la mano comunque Regà Non ci credo C'è il dipinto di Aurora E metti sta collana va? Qui Chi la vincerà? La colla a destra Beh Si mangia meglio qua O a Napoli? Ho dei dubbi Ecco qua Eccolo E me l'hai rubata Ma dico io Ma Fai schifo Fai L'ami Ma ho detto Sì dai Sì dai Ancora è lavorazione È lavorazione Vabbè Ehi Teborina Ma ciao Ma io non ho capito Ma il Romeo dove sono io? Non mi sa proprio di no Il Romeo è quello E dovrebbe uscire mo Sei carico? Ma sei impanicato? E Dana? Ma gli hai regalato La rosa è bianca Sai che significa rosa bianca? Tradimento Ha detto lei Eccoti qui Ma sei tu la mia Romeo E la mia Giulietta La mia Romeo Oh Sta arrivando a ora E gira Ti ha girato Ma ora Aspetta Senti qua Ci siamo Ok Dovrebbe arrivare ora È lì o non è lì? Buonasera Ma dov'è? Dov'è? Dov'è mia moglie? Eccola qua E là Vai Mamma mia E che cos'è Auri Che cos'è? Come stai? Bene Tutto bene? Gli hai dato il regalo? No ancora no Non so dove Ancora no Aspetta Dammi che te Dammi che te metto a posto Dammi che te metto a posto Auri ho un regalo per te Ragazzi Stiamo parlando ottimo del mio regalo Con un fidanzato Il regalo più bello Te lo diranno Eh frate Non ho avuto Ma stanno in posizione Allora Ricorda una cosa Che te sei arrivato ora Io c'ero da prima Ora c'è la sorpresa della mammina La sorpresa della mammina Vediamo che almeno No Gli piacerà Gli piacerà Auri Ci sei? Però fate usci tutti Tranquilla Usciamo tutti signori Usciamo Va a fuoco Dai le mani a mamma C'è un gradino Tra un po' Fai piano piano Ragazzi In questo momento C'ho due telefoni in mano Ciao Auri Dove devo girare Dai Auri Com'è? Grazie Un applauso Un applauso È impossibile È impossibile questa cosa Sei contento o no? A voto Sì 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 Un consiglio Che vuole Non esito Non esito Non esito Non esito Sì Guardate Voglio sapere una cosa Ma questi qua No Questi tuoi amici I tuoi invitati E tutti i tuoi parenti Non fanno burdello Oppure sono pubblico Musce Dai No Voglio sapere Ragazzi La mia sorpresa Sto per arrivare Rita è proprio qua fuori Ora andiamo a prendere E la portiamo direttamente Dai 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 Senza paura Ci siamo signori Sentiremo la presenza Sentiamoglielo Ho Immacчасio Po Lo so 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 E Ho Ho l'amor l'amor me l'hanno copertino ma dico io ma dico io no allora allora questa è la mia sorpresa il mio regalo per il tuo compleanno però c'è un altro regalo perché te puoi scegliere un giorno e io ti porterò a fare shopping ma con la mia carta giuro quanto vuoi anche domani però se questo video arriva dite 20 mila 100 mila 20 mila like va bene mettete like che mi compro tutto ma dico io ma senza il ritegno no c'hai qua un suo come posso dire amante e tu che sei dall'amante no l'amante allora sono geloso allora festa finita come è andato questo compleanno benissimo sono troppo troppo felice ora si va a ballare ballare quindi ragazzi ancora c'è la scommessa 20 mila like mi compra tutto quello che voglio con la sua carta di credito giuro che lo faccio promesso anzi questa è nuova da vita ci vediamo al prossimo video dove faccio shopping ok